Ciao! Siamo i Floppy. Il nostro compito da quest'anno comincia la critica nei confronti dei dirigenti, allenatori e atleti. Noi faremo gli eloggi quando occorrono, ma vi asimeremo in caso di necessità. Oggi dobbiamo elogiare il presidente Renato Coppola, l'allenatore Mario e l'atleta Gianmarco, perché per rendere la palestra vivibile per gli atleti si sono messi in buona lena a pulire e lavare i pavimenti. A loro vanno i nostri complimenti! Ciao! Grazie a tutti!